Simone Arenoso, migliore in campo di questa partita, ti consegniamo il premio, ti facciamo subito i complimenti. Per quel che riguarda invece la tua prestazione, dobbiamo dire che è stata una vittoria molto sofferta, tu ti sei battuto come un leone in tutte le zone del campo, alla fine avete sfruttato l'unica vera grande occasione che avete avuto, siete stati molti feriti. Sì, è stata una partita molto fortunata, abbiamo molto sofferto, però alla fine abbiamo vinto noi. Tu hai segnato un gol importantissimo, ma sicuramente dobbiamo dire che la difesa ha retto benissimo a tutti gli assalti del Casamari, quindi anche i tuoi compagni di squadra hanno fatto il loro. Sì, i difensori sono stati molto bravi, ha levato ogni intercettazione, devo dare anche un complimento a loro. Per quel che riguarda invece le ambizioni del Giuliano Cildren, della tua squadra, che cosa vi siete posti come obiettivo? Loro abbiamo fatto una fusione, insieme dobbiamo creare un gruppo unito per vincere quello che possiamo sperare. E quel che riguarda questo torneo? Lotteremo fino alla fine per arrivare in finale. Davide Mastrantoni, giocatore del Casamari Veroli, c'è da dire che avete giocato comunque una gran gara, siete usciti sconfitti dal campo, avete comunque tentato in tutti i modi di vincere questa partita, è andata male, peccato. Abbiamo fatto la partita, poi c'è stato l'episodio del rigore che ha compromesso il negativo, la partita per noi, si sono chiusi e non siamo riusciti a pareggiare. L'impressione è che avete tentato in tutti i modi di cercare di colpire la squadra del Giuliano, però la loro difesa è stata impenetrabile oggi? Sì, un complimento alla difesa che è stata impenetrabile e anche il nostro attaccante migliore non è riuscito a battere il loro quartiere. Michele Barone, un altro protagonista di questa partita, una partita che avete vinto con molta sofferenza però. Sì, abbiamo sofferto molto, la difesa è stata molto attenta quando loro attaccavano, però siamo riusciti a portare un buon risultato a casa. C'è molta soddisfazione, avete preparato questa partita esattamente così, nel senso cerchiamo di non dare spazio all'avversario e ripartire in contropiede? Sì, siamo stati molto attenti alla difesa, l'avevamo già preparata in allenamenti e con gli schemi e partivamo solo in contropiede. Abbiamo trovato lo spunto per gol. Francesco Giona si è dato un grande affare davanti cercando di creare spazi, cercando di dare peso all'attacco. Ci ha provato in tutti i modi, non ce l'hai fatta, però comunque è uscito con l'uno delle armi da questa partita. Sì, abbiamo fatto una bella partita, non meritavamo di perdere, però è andata così, abbiamo perso. Diciamo che avete comunque dato l'anima, ce l'avete messa tutta, non potete comunque rimpiangere in nessun caso la sconfitta, anche se è arrivata. Sì, no, abbiamo... C'è molta amarezza da parte vostra. Molta. Daniele Donofrio, portiere impenetrabile della squadra del Giuliano Cildrem, avete comunque contenuto alla grande gli attacchi da parte del Casamari, meglio di così non poteva andare. Sì, sì, abbiamo sofferto, però alla fine abbiamo spuntato da noi. Diciamo che hai dato comunque sicuramente spessore con la tua prestazione in porta alla partita da parte della tua squadra. In difesa avete vinto questa partita, possiamo dirlo? Sì. Ok, grazie mille. Qual è il tuo portiere preferito? Giulio Cesar. Samuele Faliero, hai cercato comunque di dare il tuo contributo al centrocampo, avete comunque per molti tratti condotto la partita, quella parte importante del campo, però non ce l'avete fatta. Che cos'è che è mancato da parte vostra? La lucidità sotto porta, abbiamo concluso le azioni molto bene, perché avevamo paura di perdere, non avevamo decisioni. Probabilmente l'approccio psicologico quindi è la chiave della vostra sconfitta, voi comunque rimane comunque una stagione molto positiva da parte della tua squadra, soprattutto nel campionato esordienti avete fatto molto, molti punti. Sì, abbiamo vinto il campionato, pensavamo di arrivare almeno in semifinale a questo torneo, ma è andata così, il calcio, il pallone è rotondo e si può pure perdere. Ci riprovede il prossimo anno però. Sì, sì. Franco Mastrantoni, mister del Casamari Veroli, avete condotto per larghi tratti della partita, la gara, è mancata probabilmente l'efficacia in zona gol negli ultimi 16 metri, è giusta questa disamina? Sì, diciamo la disamina è giusta, però preferirei sempre perdere in questo modo col sorriso sulla labbra perché i ragazzi li devo solo complimentare, anche complimentando pure gli avversari perché hanno fatto la loro partita. Quindi ho detto ai ragazzi, il risultato viene in secondo piano. Quando perdiamo così sono contentissimo. Mi dispiace solo, eccomi, sono rimasti due o tre ragazzi in banchina, non ho avuto né modo né tempo per farli entrare, gli chiedo scusa pubblicamente anche ai loro genitori purtroppo. Luca Maesto, mister del Giuliano Ciltrem, la tua squadra ha portato in porto un risultato dopo una gara che francamente pensavamo potesse perdere, invece avete veramente giocato alla grande, soprattutto al punto di vista tattico. Sì, queste partite ormai vengono fuori comunque dalle situazioni particolari che vince poi la fortuna perché se guardi bene la partita è un gesto su un calcio di rigore che dobbiamo vedere se poi c'era o non c'era, se bisogna entrare in un giusto di fortuna e alla fine siamo stati favoriti noi dalla fortuna. Ecco, però l'altra squadra sapevamo che era una squadra abbastanza forte sia tecnicamente che fisicamente, ci sono degli elementi che mi auguro dal mio punto di vista che possono prendere strada per il loro traguardo poi effettivamente per il settore giovanile. L'impressione è che comunque la tua squadra, al di là della fortuna, sia stata messa in campo con molto rigore tattico, soprattutto dal punto di vista difensivo ha soffocato sul nascere tutte le iniziative del Casamari. L'avevi preparata così questa partita? Sì, il primo tempo abbiamo messo in campo alcuni elementi che l'altra partita magari non avevano avuto spazio a disposizione e abbiamo preparato poi questa situazione tattica del secondo tempo per avere questa reazione che ci portava poi ad attaccare. Comunque non è stata poi tutta facile perché abbiamo visto che delle situazioni ci hanno messo in difficoltà, avendo a disposizione solo un portiere è capitato l'infortunio e abbiamo ottenuto fino alla fine e siamo stati premiati dalla fortuna.